bello a tutti asfaltavoni benvenuti e bentrovati su leon tube eccoci in questo video per andare a vedere il livello 15 dell'evento speciale ssc tuatara nel livello 15 possiamo andare a fare il full delle condizioni in quanto abbiamo la mercedes amg gt black series al massimo quindi possiamo andare a prendere anche i tre pezzi di importazione oltre ai cinque progetti della tua tara al bottino dobbiamo battere il tempo di 1 17 e 500 quindi partiamo cerchiamo di fare tutto di cinque tentativi vediamo l'altro obiettivo qual è uno degli obiettivi base a 500 metri di rapata perfetto ora andiamo con la nostra mercedes amg gt black series ok diciamo che la nera pata bene questi culpuri ok 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 Grazie a tutti. Tempo 1.14.143 quindi siamo stati abbastanza sotto, ovviamente abbiamo anche l'auto già potenziata per il Gran Premium al quale dovremmo arrivare secondi e quindi prendere la chiave. Ecco qua abbiamo preso il pezzo di portazione della Tuatara, pezzo di portazione Mercedes-Benz, progetto Tuatara, con questo dovremmo andare a 5 della seconda stella, cioè finendo le 5 condizioni. Esatto, 45 per la seconda stella, ok andiamo a giocare ancora. Voglio ricordare di farsi 500 metri, di fare i 500 metri di terapata. Un ticket. Mondo tentativo. Vediamo se riusciamo a battere. 14. Questa pista molto lunga quindi si riesce. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Grazie. 1.17 con incidente, quindi abbiamo fatto leggermente meglio di prima, se non contassimo l'incidente, comunque è importante riuscire a prendere i premi, quindi una volta fatto il tempo di 1.17.5, dopo dobbiamo battere 1.18, che è un pochino più facile. Terzo tentativo. Allora, guarda che c'è un pochino. Alla prossima. Siamo sempre lì come tempo, troppi errori, proviamo ancora Diciamo che non guidiamo benissimo, poi questa è una pista anche difficile con tutte i turvoni inderapate, dove bisogna derapare il giusto Alla prossima Alla prossima Siamo sempre lì come tempo Ora ultimo tentativo Vediamo di migliorare senza prendere quella rampa che ci fa schiantare O prendendola o più alta o più bassa Niente da fare, anche l'ultimo tentativo non abbiamo fatto un gran che come tempo Ma abbiamo raccolto tutte le condizioni di questo livello e ci portiamo quindi Tanto bello aver preso 5 progetti della tua tara E ci portiamo a 263 condizioni, andiamo anche a prendere il premio dei 250 che sono 3 bei progettini E ci portiamo a 10 della terza stella, 10 su 45 Ora sarà difficile andare a prendere altri premi, soprattutto quelli generali Vediamo un attimo se c'erano per caso altri premi della AMG Ok con la Ferrari Ok qui l'hanno già presi tutti perché era in prova gratuita, perfetto E niente con questo video ragazzi la terminiamo qua Se vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici nei vostri social Non dimenticate di lasciare un commento E come sempre se vi va Invidiamo iscrivervi al nostro canale Non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere i nostri aggiornamenti Ciao a tutti